il cuore di tutto. Il cuore è semplice, l'itinerario iniziatico è semplice, è un passaggio continuo da uno stato della mente e del corpo ad un altro stato, la morte di un certo stato, di un certo corpo e la risurrezione già da ora iniziata di un altro stato dell'io e del corpo, cioè della materia. Questa cosa oggi, 2020, si ripropone come urgente e pressante anche attraverso questa grande prova. E vorrei leggervi un breve passaggio dal manuale Darsi Pace per farvi ricomprendere quanto la prova che stiamo vivendo in questi mesi per noi di Darsi Pace sia in un certo senso scontata. Certo, è sempre una sorpresa, non è che avremmo potuto immaginare una pandemia, ma che ci trovassimo in una fase di resa dei conti, in una fase terminale di un'intera civiltà. Questo è ciò che noi diciamo, io personalmente, da almeno 30-40 anni e Darsi Pace da 20, capite? Quindi voglio leggervi questa pagina per farvi risuonare di nuovo questa verità interna al nostro lavoro. Siamo insomma ad una grande resa dei conti e più si fa forte in noi e sulla l'evidenza della luce nascente e la necessità, priva di alternative evolutive, di lasciarci assorbire nell'ordine della riconciliazione e più le resistenze diventano cieche e micidiali. Questo è, come dire, lo schema apocalittico di tutti i tempi. Lo schema apocalittico sia dell'apocalittica giudaica che poi dell'apocalittica cristiana, fino all'apocalisse di San Giovanni, con cui termina la Bibbia, è esattamente questo, cioè lo scontro diventa sempre più pesante andando verso la fine. Come dire, la luce diventa sempre più luminosa e le tenebre diventano sempre più tenebrose. Questa è la natura del tempo apocalittico, perciò il tempo apocalittico è ambiguo, perché non si può dire che sia meglio o peggio, è al contempo molto meglio e molto peggio. La luce è più luminosa, ma le tenebre sono più tenebrose, capite? Ecco perché il giorno della salvezza, il giorno della salvezza di cui parla tutto l'Antico Testamento, il giorno di Yahweh, era visto dagli antichi profeti di Israele anche come un diesire, no? Andatevi a rileggere Malachia 3.2. Il giorno del Signore è tremendo, è terribile, è il diesire per tutto ciò che in noi o nel mondo vi si fosse opposto, capite? Il giorno del Signore, la manifestazione di Dio, è la salvezza per chi si assorbe nel corpo di Cristo, ed è l'ira tremenda per tutto ciò che resta nel corpo dell'ego, è chiaro? Solo se ci lasciamo salvare, ecco il passaggio continuo, se facciamo questo lavoro continuo e cioè transfigurare dal Cristo nascente, possiamo sottrarci agli effetti devastanti dell'ira divina che in realtà non è altro che l'energia travolgente del tempo della salvezza, cioè la potenza trasfigurante dello spirito dell'amore che viene rifiutata e quindi presa controvento, contro di sé, cioè cos'è l'ira divina? È Dio che è cattivo, se incavola e dice ma questo è topolino, immaginate il Dio di Gesù, il padre del figlio del prodigo che punisce i suoi figli, non lo fa, non è questo, Dio non usa mai il male a fin di bene, non può, perché non conosce il male, è luce, è pura luce, ma la sua grazia, cioè la potenza che ci sta dando, questo spirito che ci potrebbe spingere alla trasformazione, se io non lo uso, se io mi chiudo a questa donazione, è come se prendessi una grande ventata controvento, il vento servirebbe e serve per farci andare a largo, capite? Ma se io non mi metto nella giusta disposizione, poi io ho una sveglia terribile, scuffio e vado sott'acqua, questa è l'ira di Dio. L'ira di Dio è l'amore rifiutato, l'ira di Dio è l'energia trasformativa non utilizzata o utilizzata malissimo, ecco perché Romani 5,9, San Paolo dice ora che siamo stati giustificati dal sangue di Cristo, cioè attraverso la morte di Cristo siamo stati già giustificati, togli il mio peccato dal mondo saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui cioè qual è l'unico modo per non subire l'ira cioè l'amore controvento è ricevere l'amore nel verso giusto questo ci salva dall'ira e non solo ma ci dà questa ricchezza infinita della vita nuova che ci divinizza e ci dà la forza di attraversare tutte le prove nella vittoria già avvenuta dello Spirito io ho vinto il mondo il tempo che viviamo perciò questo è molto importante da capire molto importante da capire anche oggi davanti al coronavirus ma era così pure 50 anni fa queste parole io le ho scritte nel 2001 non è che era diverso è uguale poi ci sono come dire le fasi apocalittiche ma il concetto è lo stesso cioè il tempo che viviamo può essere vissuto in due modi diametralmente opposti lo stesso tempo questi giorni qui li possiamo vivere in due modi completamente diversi se li vivi nel corpo dell'ego è un disastro terrificante una terribile punizione se le vivi spostandoti continuamente nel corpo di Cristo sei salvato dall'ira e intanto capisci che sta succedendo e lo puoi vivere anche questa cosa tremenda nel segno della vittoria quindi il tempo che viviamo è un tempo che può essere vissuto in due modi diametralmente opposti o come tempo straordinario di salvezza di pacificazione interiore planetaria in cui cioè siamo chiamati a resettare un intero sistema di mondo che era sbagliato è radicalmente sbagliato e quindi un tempo di redenzione trasformativa con tutto l'entusiasmo la fatica lo sapete noi questa fatica questo entusiasmo la viviamo tutti i giorni perché è il processo iniziatico personale e planetario è lo stesso oppure questo medesimo tempo lo possiamo vivere come tempo dell'ira della guerra di tutti contro tutti capite? e della distruzione a tutti i livelli personali e storico collettivi e non è quello che stiamo vivendo in questi giorni? ma l'abbiamo vissuto già altre volte veniamo dal ventesimo secolo avremmo dovuto capire qualche cosa dalla seconda guerra mondiale dai totalitarismi dalla prima guerra mondiale che è stato un massacro evidentemente ancora non abbiamo capito questa cosa semplice che le scritture ci dicono e ci ripetono almeno da duemila anni e che noi continuiamo a leggere e a non capire o a non volere capire eppure sono abbastanza lampanti come direbbe René Girard no? che viviamo in un tempo apocalittico almeno da un secolo mi pare abbastanza evidente ma evidentemente non è ancora sufficientemente evidente ma noi possiamo vivere già ora questo tempo come un tempo di salvezza il mio terzo libro di poesie si chiama Figure dell'ira e dell'indulgenza e quel libro è l'attraversamento iniziatico di tutte le figure che ognuno di noi vive nel passaggio perché questo è un passaggio difficile iniziatico se lo viviamo ognuno di noi in un certo senso è chiamato a vivere tutte le figure che ha vissuto il Cristo nel suo passaggio terrestre vivremo il tradimento l'essere traditi vivremo la figura del servo sofferente la figura del profeta dell'annunciatore del guaritore del taumaturgo del torturato dell'escluso del maledetto del crocifisso e del risorto tutte figure figure ma possiamo anche vivere il passaggio nella figura di Caifa possiamo vivere il passaggio nella figura di Pilato possiamo vivere il passaggio nella figura del popolo che preferisce il ladrone al signore della vita capite? io lì ho sentito ho attraversato come tutte le figure tutte le figure dell'ira e dell'indulgenza allora quali figure vogliamo incarnare? quali personaggi vogliamo impersonare in questo passaggio? scegliamo 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 lo spirito della nuova umanità non lo dobbiamo inventare questo è molto importante non lo dobbiamo inventare noi c'è già è nel profondo del profondo del mio io basta che io lo vada a cercare nel profondo del profondo del mio io cioè vada a cercare la verità del mio io per incontrare questa via di salvezza e questo è molto bello molto consolante per tutti noi e questo è molto bello